Don Alberto Barin, carcere San Vettore, Milano. Chi è costui? Costui è il parroco del carcere e praticamente è stato arrestato. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un prete del cappellano del carcere di San Vettore che è stato accusato di violenza sessuale nei confronti di sei detenuti. Cosa faceva questo simpatico prete? Praticamente in cambio di beni di prima necessità, come spazzolini, shampoo, sigarette, saponette, otteneva delle prestazioni sessuali da sei carcerati stranieri. Adesso è stato arrestato con questa accusa, è stato portato nel carcere di Bollate, i sei detenuti sono stati spostati in un altro carcere e questa cosa mi lascia veramente essere fatto. Ogni volta che sentiamo parlare dei preti, sentiamo queste cose e rimaniamo spesso sconvolti. Siamo abituati a sentire di preti che approfittano di bambini, di ragazzi, insomma quasi questo non ci tocca più e questo è veramente una cosa molto grave. Adesso addirittura arriviamo a queste cose, addirittura si approfittano di persone adulte che sono in una costruzione, sono in un carcere. E allora io mi chiedo, a cosa serve un prete che non ha rapporti con delle donne? Cosa serve costringere un uomo a questo tipo di costrizione? Cioè il fatto di non poter avere un rapporto sessuale con una persona del sesso opposto. Praticamente la Chiesa gli impone la castità ma poi molto spesso viene disattesa. E su che cosa viene disattesa? Magari andassero a puttane, ma questi se ne approfittano delle persone più deboli, dei bambini, dei carcerati, dei minorati. E' una cosa veramente schifosa. E questa cosa è veramente, secondo me, la goccia che fa traboccare il vaso. Ci dobbiamo indignare tutti quanti e come succede in paesi molti più civili dei nostri, la Chiesa permette ai preti di sposarsi. E questo secondo me... io ho sempre pensato che questo atto di castità, che per carità è un dogma, è un qualcosa che la Chiesa cattolica ha, secondo me è inutile. Perché si va a sopprimere soltanto quello che è un bisogno dell'uomo, cioè quello di accoppiarsi con una donna che non c'è niente di male e questo non c'entra niente con la religione. Il fatto di poter stare insieme a una donna e di farci l'amore, o comunque una persona del sesso opposta e farci l'amore, è una cosa del tutto naturale. Non entriamo nel discorso dell'omosessualità, che è tutt'altra cosa, argomento che non voglio toccare in questo momento, di cui non ho nulla in contrario, ma non è l'occasione per parlarne. voglio parlare e dire che sono un po' stanco di sentire che i preti spesso, troppo spesso, approfittano la loro posizione per approfittare delle altre persone e non per aiutarle. E questo è veramente uno schifo che deve cambiare.